Tra poco su Amazing Facts Presents, i figli di Israele credevano che quando sarebbe venuto il Messia, la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata quella di bruciare i gentili. Da più di 40 anni, Amazing Facts si dedica alla predicazione della parola di Dio attraverso i mass media. Questo programma contiene estratti dei nostri migliori programmi televisivi. Quindi, mettetevi comodi e godetevi questa edizione di Amazing Facts Presents. Vi invito a leggere una parabola che si trova solo nel libro di Matteo. Ci sono molte parabole che si trovano esclusivamente nel Vangelo di Luca, ma quello che è scritto in Matteo di solito si trova anche in Marco, Luca o in altre parti. Ma questa parabola si trova solo nel libro di Matteo, capitolo 13. Matteo 13. Ed è una parabola che si trova subito dopo la parabola dei diversi tipi di terreno e di semi. Altre volte chiamata la parabola del seme e della zizzagna. Ma non usiamo molto la parola zizzagna oggi. La zizzagna è l'equivalente dell'erbaccia. Quindi, ho intitolato questo incontro la parabola del grano e dell'erbaccia. Grano o erbaccia? Matteo 13. Partiamo col versetto 24. Egli propose loro un'altra parabola dicendo Ora, ai tempi della Bibbia non era difficile vendicarsi o mandare in bancarotta un nemico. bastava andare a seminare questa erbaccia mortale e infestante in mezzo al buon raccolto. E sapete, questo era uno dei maggiori investimenti delle persone. Era il loro cibo e coltivavano il grano per sostenersi. E viene detto, quando poi il grano germogliò e mise frutto, apparve anche la zizzagna. E i servi del padrone di casa vennero a lui e gli dissero Signore, non hai mai buon seme nel tuo campo. Come mai dunque c'è della zizzagna? Ed egli disse loro, un nemico ha fatto questo. Allora i servi gli dissero Vuoi dunque che andiamo e la estirpiamo? Ma lui disse no, per timore che estirpando la zizzagna non sradicate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori raccogliete prima la zizzagna e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Ora qui viene raccontata la parabola e poi trovate che Gesù prosegue ad insegnare ma i discepoli vanno da lui successivamente e gli dicono in modo specifico Di questa parabola in particolare abbiamo bisogno di una spiegazione. Quindi non c'è solo la parabola ma c'è anche Gesù che la spiega in modo molto chiaro. L'interpretazione inizia nel versetto 36 Allora Gesù, licenziato e le folle, se ne ritornò a casa e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo Spiegaci la parabola della zizzagna nel campo Il grano non viene nemmeno nominato Si preoccupano di più per la zizzagna Ed egli rispondendo disse loro Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo Il campo è il mondo Il buon seme sono i figli del regno E la zizzagna sono i figli del maligno E il nemico che l'ha seminata è il diavolo Mentre la mietitura è la fine del mondo I mietitori sono gli angeli Non si trova da nessuna parte della Bibbia Un punto in cui Gesù spieghi così accuratamente Il significato dei simboli Ecco, bing, 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 bing Questo è ciò che significano Ciò che rappresentano Come dunque si raccoglie la zizzagna E si brucia nel fuoco Così avverrà la fine del mondo Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli Ed essi raccoglieranno dal suo regno Tutti gli scandali e gli operatori di iniquità E li getteranno nella fornace del fuoco Lì sarà pianto astridor di denti Allora i giusti risplenderanno come il sole Nel regno del padre loro Chi ha orecchi da udire oda E conclude dicendo che se avete orecchi Lo Spirito Santo ve li ha aperti E sarete in grado di comprendere Come questo verrà applicato Ora, uno degli aspetti più importanti Di questa parabola Che Gesù sta cercando di illustrare Colpisce i discepoli dritto al cuore I figli di Israele credevano Che quando sarebbe venuto il Messia La prima cosa che avrebbe fatto Sarebbe stata quella di bruciare i gentili Li avrebbe giudicati Loro erano gli empi Gli ebrei erano i fedeli I prescelti Ricordate persino quando Gesù stava per ascendere al cielo Persino dopo essere risorto dai morti E aver insegnato le scritture Se non sbaglio Filippo che gli disse Signore A questo punto ristabilirai il regno Brucerai ora tutti i cattivi E ci darai il regno Richiamando tutti gli ebrei E tutte le nazioni insieme Non capivano Gesù disse loro No Ci sarà un periodo di tempo In cui cresceranno insieme Essi mescoleranno Innanzitutto Il seme che il re seminò Era un buon seme Dio è colui che possiede il campo E possiede il seme E il seme che piantò inizialmente Era un buon seme Ogni dono buono e perfetto Viene da Dio Genesi 1.12 E la terra produsse verdura Erbe che facevano seme Secondo la loro specie E alberi che portavano frutto Contenente il proprio seme Ciascuno secondo la propria specie E Dio vide che questo era buono Proprio nel primo capitolo della Genesi Viene detto buono sette volte Sette è un bel numero biblico Buono 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 Tutto era buono Dio semina buon seme nella sua vigna E ci dice che cosa rappresenta il campo Nel punto successivo Il campo è il mondo Ora vorrei che vi fermaste un attimo A pensare su questo punto Probabilmente l'80% dei pastori Che predicano su questa parabola Dicono che il campo è la chiesa Gesù sapeva come usare la parola chiesa E quando Gesù ha interpretato questa parabola Non ha detto il campo è il mondo Ha detto il mondo E quindi intendeva Ciò che ha detto La terra è del Signore Salmo 24 1 All'eterno appartiene la terra E tutto ciò che è in essa Non si parla solo della chiesa Tutto il mondo è del Signore In tutto il mondo il Signore ha sparso il suo grano Non solo in un posto In realtà questo era un problema per gli ebrei Pensavano di essere gli unici Ma Dio ha detto invece che molti sarebbero venuti dall'est e dall'ovest Elia fu mandato a vivere con la donna pagana Dio disperse il suo popolo anche tra i non giudei Ci sono persone che affermano di essere credenti Mentre in realtà sono in mezzo a loro come una sorta di inganno Quindi in tutto il mondo Il mondo è il campo Ci sono i veri figli di Dio E ci sono anche i falsi figli sparsi tra di loro E il campo era buono Salmo 50 12 Se avessi fame non te lo direi Perché il mondo e quanto esso contiene è mio Quindi c'è un buon padrone terriero Che semina buon seme nel suo mondo Quando il mondo fu creato e uscì dalle mani di Dio Questo era buono Era perfetto Ma giunse un nemico E cosa succede? Mentre l'uomo dormiva E quindi nella prima parte viene detto solamente Che mentre la gente riposa Proprio quello è il momento in cui il nemico se ne approfitta Mentre l'uomo dorme lui arriva E nell'oscurità semina la zizzania tra il grano Ora la parola che in greco si traduce tra È una parola molto forte Che significa in realtà cospargere completamente ovunque Perciò Satana semina dottrine false nell'oscurità Proprio là dove la verità dovrebbe essere proclamata e insegnata Prima Pietro 5,8 Siate sobri, vegliate Perché il vostro avversario, il diavolo Va attorno come un leone ruggente Cercando chi possa divorare Ed è sempre lui che semina semifalsi Ho aggiunto io quest'ultima parte Mi fermo un momento per parlare di questo Cosa sono le erbacce e come appaiono In greco erbaccia exigzanion Ed è Darnell nella terra di Israele La zizzania infesta il grano Sembra Apparentemente Come il grano Soprattutto all'inizio Avendo la cima con dei chicchi E quando è tutto insieme Il colore è lo stesso Ma man mano che la stagione avanza Prende un colore grigio Ed è qui che i servi del padrone Dicono Non avete seminato Il seme è buono Abbiamo notato un cambiamento Nel colore del campo E sembra che ci sia zizzania C'è della zizzania tra il grano Un tipo di grano falso Ora questa cosa esiste davvero La zizzania L'ingannatrice Come la chiamano Questa zizzania Si diffuse in tutto l'est Creando grossi problemi Agli agricoltori In breve È un veleno sporifero Potente E deve essere Estirpato attentamente Allontanato dal grano Prima della macina Altrimenti non è sano In generale Gli agricoltori Che hanno la zizzania Nei loro campi Non cercano di separarla Dal grano Perché la confonderebbero Col grano buono Spesso le due radici Sono così intrecciate Da rendere impossibile La separazione Senza estirpare entrambe Per questo motivo Devono crescere insieme Fino al momento Del raccolto Quindi Questa erbaccia Questa zizzania Questa erba cattiva Viene seminata Tra il grano Le radici sono forti E molto spesse E le cime Si mischiano Non si può mietere E tagliare Perché è tutta Mescolata Al grano Alla fine L'erbaccia Diventerà più alta Quindi se si aspetta Fino al raccolto Sarà più evidente E facile Separarle Da dove viene la zizzania? Genesi 3 17 18 Poi disse ad Adamo Poiché hai dato ascolto Alla voce di tua moglie Hai mangiato dall'albero Circa il quale Io ti avevo comandato Dicendo non ne mangiare Il suolo Sarà maledetto Per colpa tua Ne mangerai il frutto Con fatica Tutti i giorni Della tua vita Esso ti produrrà Spine e triboli E tu mangerai L'erba dei campi Ci saranno piante inutili Non volute Che cresceranno Al principio Tutto era buono Che cos'è l'erbaccia? Ho cercato La definizione per voi Erbaccia Una pianta inutile Che cresce selvatica Soprattutto Quella che cresce In un terreno coltivato Escludendo O infestando Il racconto Qualsiasi pianta Desiderata O infestante Soprattutto Quella che cresce Profusamente Dove non è voluta Non si desidera Che cresca Tra il grano Cristo dice Quando gli angeli Gli chiedono Cosa sia successo Non hai seminato Del buon seme Nel campo? Lui dice Sì Un nemico Ha fatto questo Questa parabola È molto importante Perché ci sono Molte persone Che guardano Il peccato Nel mondo Guardano il male Nel mondo E dicono Dio è buono Da dove viene Il peccato? Come mai C'è tanta cattiveria In un mondo Creato da un Dio Buono? Cristo ha detto Un nemico Ha fatto questo E sì Potreste pensare Se Dio è così potente Perché non distrugge Il nemico? Beh dovete capire La grande controversia In cui si accusa Dio falsamente Il nemico È lì fuori Infuriato Che cerca di seminare Più male E cattiverie È possibile È quindi Asseminato Delle erbacce Nel meraviglioso Mondo Fatto da Dio E Gesù Continua Dicendo I miei titori Sono gli angeli Gli angeli Sono coinvolti In ciò che sta Accadendo nel mondo Vedete Che gli angeli Ci tengono Al raccolto Esaminano Il raccolto Vedono Che c'è qualcosa Che non ci dovrebbe essere Dio manda I suoi angeli Affinché Veglino Sui suoi figli I suoi angeli Saranno coinvolti Nella grande mietitura Alla fine del mondo Leggiamo Matteo 24 31 Ed egli manderà I suoi angeli Con un potente Suono di tromba Ed essi raccoglieranno I suoi eletti Dai quattro venti Da un'estremità Dei cieli All'altra Quindi il campo È il mondo E dice Lasciateli crescere insieme Signore Noi sappiamo Che quando saresti venuto Li avresti separati E lui disse No Ci sarà un periodo In cui cresceranno insieme Vi siete mai chiesti Il motivo per cui Gesù è dovuto venire due volte Perché quando è asceso al cielo Non ha detto Ok ora andiamo tutti in cielo Perché sono passati Duemila anni Perché tra la prima E la seconda venuta C'è un periodo In cui il grano E l'erbaccia Cresceranno insieme Perché il piano Della salvezza Non è stato dimostrato Completamente Perché il carattere Del diavolo Non è stato dimostrato Completamente Perché il risultato Del governo del diavolo E del governo di Dio Che sono in guerra Tra di loro Deve produrre I frutti Di questi due regni Deve essere sottolineato In modo chiaro Perché solo un regno Rimarrà E durerà per sempre Questo è l'argomento Dell'intero libro Di Daniele Il Signore Doveva rivelare I risultati Dell'amministrazione Del diavolo Non poteva essere Subito evidente Ci vuole tempo Perché il raccolto Maturi E diventi palese E questo è ciò Che sta accadendo Ora Nel nostro mondo Le politiche di Gesù E le politiche di Satana Stanno portando frutto Matteo 13 30 Lasciate che crescano Entrambi insieme Fino alla mietitura E al tempo Della mietitura Io dirò Ai mietitori Raccogliete prima La zizzagna E legatela In fasci Per bruciarla Il grano Invece Riponetelo Nel mio granaio Quindi questo significa Che ci sono delle Contraffazioni Nel mondo Che non sono genuini Ci sono delle Contraffazioni Anche nella chiesa Ci sono delle persone Nel mondo Che provengono Da formazioni Religiose diverse Che amano il Signore Ma che non hanno Ancora conosciuto Gesù Gesù ci dice Ho altre pecorelle Che non fanno parte Di questo gregge Che non hanno ancora Audito la mia voce Sentiranno la mia voce E usciranno Da Babilonia E ci sarà Solo un gregge E un solo pastore Ora ci sono Tante persone Sparse nel mondo Ma poco prima Della fine Ci sarà Una grande Pulizia Ci sarà Un grande Scuotimento E verranno Separate Questo momento È noto Come La mietitura Geremia Geremia 8 20 Una volta che arriva La mietitura I salvati Saranno salvati E i perduti Saranno perduti Conoscete questo versetto? La mietitura è passata L'estate è finita E noi non siamo salvati È ora il momento Di crescere come grano E non come erbaccia Ho qui molti versetti Per voi Giovanni 4 35 3538 Gesù dice Non dite voi Che vi sono ancora Quattro mesi E poi viene la mietitura? È il momento In cui Gesù Ha quell'esperienza Con la donna Al pozzo E i discepoli Gli chiedono Perché stesse parlando Con una samaritana I samaritani Sono perduti Ai tempi di Gesù Se si voleva Insultare qualcuno Si poteva dire Che era posseduto Da un demone O che era Un samaritano E i discepoli Che erano Andati lì A prendere da mangiare Tornando Vedono Gesù Che parla Con una samaritana In più donna Queste erano Considerate le ultime In assoluto Erano Considerati perduti E Gesù Utilizzò Lei Per parlare Con tutta la gente Del villaggio E tutti arrivarono Perché avevano creduto Alle parole di lei E questo Fu un grande Raccolto di anime E Gesù Dice loro La mietitura è vicina E vedono tutte queste persone Che arrivano dal villaggio Della samaritana E si avvicinano A Gesù Li guarda E inizia a parlare Della mietitura Una mietitura Inaspettata E quando Gesù Parla del grano E della tizania Dice Ci sono persone Là fuori Discepoli Apostoli Che voi Non conoscete Ma sono miei E ci sono delle persone Che pensate Siano mandate da me Ma non lo sono Matteo 25 31-32 Ora Quando il figlio Dell'uomo Verrà nella sua gloria Con tutti i santi angeli Allora si siederà Sul trono Della sua gloria E tutte le genti Saranno radunate Davanti a lui Ed egli separerà Gli uni dagli altri Come il pastore Separa le pecore Dai capri Verranno separati Ora i capri E le pecore Sono diversi? Sono entrambi Domestici E si possono usare Si può bere Il latte di capra Si può usare La lana del capro Si possono mangiare Io mi sono occupato Di entrambi E posso dirvi Che sono molto diversi Possono brucare insieme Ma sono diversi E allo stesso modo C'è una differenza Tra il grano E la zizzania Ezechiele 9 Questo si collega Ad Apocalisse 13 Al sigillo di Dio E al marchio della bestia Quindi ascoltate attentamente Si parla di questa Grande separazione E l'Eterno disse Passa in mezzo alla città In mezzo a Gerusalemme E fa un segno Sulla fronte degli uomini Che sospirano E gemono Per tutte le abominazioni Che si commettono Nel suo mezzo E agli altri Disse in modo Che io sentissi Passate per la città Dietro di lui E colpite Il vostro occhio Non abbia compassione Non usate alcuna pietà Uccidete fino allo sterminio Vecchi Giovani Vergini Bambini E donne Ma non avvicinatevi Ad alcuno Su cui ci sia il segno Incominciate dal mio santuario Così essi Incominciarono dagli anziani Che erano davanti al tempio C'è il giudizio Che ha luogo Ma prima del giudizio C'è questo segno Di separazione La Bibbia ci dice Che alla fine dei tempi Ognuno di noi Sarà marchiato Con il sigillo di Dio Con il marchio della bestia Prima della mititura Avrà luogo La grande separazione Matteo 13 47 50 Il regno dei cieli Eppure simile Ad una rete Gettata in mare Che raccoglie Ogni sorta di cose Quando è piena I pescatori La tirano a riva E postisi a sedere Raccolgono ciò Che è buono Nelle ceste Mentre gettano via Quello non buono Così avverrà La fine del mondo Gli angeli Verranno E separeranno I malvagi dai giusti E li getteranno Nella fornace Del fuoco Lì sarà pianto Astridor Di denti Cosa si fa? Con l'erbaccia Se si ha una fattoria La si raccoglie Tutta insieme La si mette In una cornice La si appende Al muro La bruciate Non serve a niente La si estirpa Infatti Ieri stavo lavorando In giardino Con i fiori Ed ho raccolto Queste erbacce Non avevo tempo Di dividerle Le ho lasciate lì E ho pensato Che domani Sarebbero a morte Sotto il sole Saranno secche Le volevo raccogliere Per eliminarle successivamente E questo È ciò che dice La Bibbia Matteo 7 16-19 Gesù disse Voi li riconoscete Dai loro frutti Si raccoglie uva Dalle spine O fichi dai rovi Così ogni albero buono Produce frutti buoni Ma l'albero cattivo Produce frutti cattivi Un albero buono Non può dare frutti cattivi Né un albero cattivo Dare frutti buoni Ogni albero Che non dà buon frutto È tagliato E gettato nel fuoco È il Signore Che ci dice Molto chiaramente Che vuole Che abbiamo I frutti Dello spirito Quali sono Questi frutti Guardate la lista In Galati 5-22 Amore Amore per Dio E per gli uomini Gioia Pace Pazienza Gentilezza Bontà Fede Mansuetudine Autocontrollo Dio vuole Che abbiamo Lo spirito santo Nella nostra vita Vuole che siamo Genuini Quindi ci sono Due tipi di figli Gesù ce lo dice Spiegando questa parabola Dice che ci sono I figli del regno E i figli Del maligno Sapete Spesso sento dire E so che è Politicamente corretto Dirlo Ma siamo tutti Figli di Dio La Bibbia Non insegna Questo Un giorno Quando Gesù Predicava Disse ai capi religiosi Voi siete come Vostro padre Il diavolo E seguite I desideri Di vostro padre E ai salvati Vedete quale amore Il padre ha profuso Su di noi Facendoci chiamare Figli di Dio Quindi nel mondo Ci sono i figli di Dio E i figli del diavolo È vero Coloro che vivono Per se stessi Che sono motivati Dal proprio ego Che sono malvagi Sono figli del diavolo Possiamo chiamarli Figli di Dio Ma finché Il loro cuore è chiuso Finché rigettano Gesù Gesù l'ha detto Molto chiaramente In diverse parabole Ci sono due tipi di figli E mi piace l'ultima parte Di Matteo 13 43 Che parla Della grande separazione E ci dice Allora i giusti Del firmamento E quelli che avranno condotti Molti alla giustizia Risplenderanno Come le stelle Per sempre Questa è una parabola Molto ampia Parte proprio dall'inizio Quando il diavolo Ha seminato L'erbaccia Nel mondo buono Di Dio E arriva al tempo Della mietitura E i due gruppi Vengono separati E la cosa meravigliosa Di questo È che qualche volta Le cose Sembrano Erbacce O Zizzania Ma poi le guardiamo E diciamo Non è come pensavo Si era mescolata Con la zizzania E mi sono confuso Ma era Una Cosa buona Avete mai Seminato E vi è capitato Di togliere Un fiore Credendo fosse Erbaccia E poi dire Oh Questa è una ragione Per cui il Signore Ci dice di aspettare Perché qualche volta Le cose Non sono come sembrano Un aspetto Un po' difficile Di questa parabola È che alcuni di voi Potrebbero pensare O siamo erbacce O siamo grano Non ci sono molte scelte Ma è questo Il punto su cui Non vorrei Ci fossero confusioni Avete possibilità Di scelta Il Signore Può modificarci Geneticamente Avete sentito Parlare di questo Grano modificato Geneticamente O del mais Modificato geneticamente In cui viene mescolato Il DNA Per trovare La combinazione Più sana Il Signore Può prendere Quella zizzania E trasformarla In grano Se andiamo Da Lui Così come siamo Lui ci può Trasformare Ci può dare Un cuore nuovo Vero? Tutti noi Siamo figli Del diavolo Fino a che Lui Non ci dona Un cuore nuovo Ci darà un cuore nuovo Quando andremo a Lui E saremo pronti Per la mietitura Per la mietitura Per la mietitura